Dobbiamo fare un salto indietro nel tempo per capire quello che sta per succedere intorno all'anno 1000 tra il Papa e l'Imperatore Ti ricordi di Pipino il Breve? Aveva ricevuto l'unzione dal Papa, Stefano II ed era perciò diventato un re sacerdote cioè un re che aveva anche il potere spirituale A sua volta Pipino aveva donato al Pontefice le città conquistate ai Longobardi e lo aveva fatto diventare un Papa Re cioè un Papa che aveva anche il potere temporale Eravamo nel 756 Perché ricordare questi avvenimenti? Soprattutto perché questi avvenimenti creano un problema perché in questo modo in pratica si mescolano funzioni diverse e non c'è più differenza tra i compiti di un Papa e i compiti di un re E proprio a causa di questa confusione verso la fine del X secolo i Papi e gli Imperatori cominciarono a scontrarsi e a litigare per stabilire chi dei due fosse il più potente il più importante Difficile però rispondere a questa domanda perché entrambi sostenevano di detenere il potere universale All'epoca delle seconde invasioni barbariche diventa imperatore Ottone I di Sassonia che aveva sconfitto gli Ungari Nel 962 Ottone aveva promulgato una legge che prese il nome di Privilegio Ottoniano Per eleggere un Papa bisognava avere l'approvazione dell'imperatore Non solo Ma Ottone inventa anche la figura del vescovo conte In che modo? Beh, dando, regalando dei feudi ai vescovi delle città In questo modo un vescovo diventava anche conte di un feudo Perché Ottone prende queste due decisioni? Ma allora, per quanto riguarda l'elezione del Papa perché purtroppo all'epoca, a Roma spesso si eleggevano dei Papi non per dei meriti ma per altre faccende, per interessi personali e invece Ottone voleva che, insomma chi veniva eletto Papa fosse degna degno di questa carica Invece la nomina del vescovo conte rispondeva a un'esigenza molto pratica I vescovi non hanno figli e quindi alla loro morte non avrebbero potuto lasciare il feudo in eredità a nessuno Perciò l'imperatore, alla morte del vescovo, se lo sarebbe ripreso Questo è un esempio di come l'imperatore ha sia il potere temporale ad esempio quello di dare dei feudi ai vescovi ma anche il potere spirituale perché era lui che doveva approvare l'elezione del Papa In questa miniatura del decimo secolo viene raffigurato Ottone I è significativa perché lo si vede ritratto proprio con i due simboli del potere Allora, questo è lo scettro e questo è il globo terrestre con la croce Allora, lo scettro è simbolo del potere temporale, del potere del re mentre il globo con la croce rappresenta il potere spirituale Quindi questa miniatura rappresenta l'imperatore Ottone che ha il potere universale Dopo circa un secolo però le cose cambiano Viene eletto Papa Gregorio VII che ha un grande progetto Riprendersi il potere spirituale che era finito nelle mani degli imperatori Come fare? Nel 1075 anche lui emana un documento chiamato Dictatus Pape Cioè il comando del Papa Cosa c'era scritto? Beh, tra le tante cose le tre più importanti sono queste Allora, intanto il Papa è superiore all'imperatore Non solo, ma l'imperatore non può assolutamente nominare i vescovi Lo può fare solo il Papa E poi solo il Papa può incoronare o togliere la corona a un imperatore L'imperatore di allora, Enrico IV di Franconia Reagì malissimo a questo documento del Papa E cosa fece? Convocò i suoi vescovi Conti E fece eleggere un antipapa Clemente III Cosa vuol dire antipapa? Praticamente un altro Papa che si contrapponeva al Papa di Roma Ma ovviamente questa elezione non è legittima Non è legale E quindi è un affronto grandissimo nei confronti del Papa Infatti la risposta di Gregorio VII non si fa attendere Scomunica Enrico IV Cos'è la scomunica? La scomunica è una punizione che la Chiesa riserva a chi ha commesso degli atti gravissimi E chiaramente l'elezione di un antipapa è un atto gravissimo Cosa significa scomunica? Beh, è come se il Papa dicesse all'imperatore Tu non fai più parte della comunità dei fedeli cristiani Questo faceva perdere ogni autorità all'imperatore E i sudditi potevano tranquillamente rifiutarsi di obbedirli Anzi, di più, potevano addirittura ribellarsi alla sua autorità Perciò Enrico fu costretto, suo malgrado, a chiedere perdono al Papa La Marchesa, Matilde di Canossa, offrì il suo castello per ospitare questo storico incontro Narra la leggenda che quando Enrico arrivò al castello di Matilde Il Papa lo fece aspettare fuori tre giorni, al freddo Prima di farlo entrare e concedegli il suo perdono Che comunque arrivò nel 1077 Ricevuto il perdono Enrico rientrò in Germania Sistemò i feudatari ribelli E dopo qualche anno si vendicò Nel 1084 Marciò con le sue truppe fino a Roma Assediò la città E Gregorio VII fu costretto a rifugiarsi a Castel Sant'Angelo Il Papa poi fu salvato da una spedizione di cavalieri normanni Guidati da Roberto il Guiscardo Che erano arrivati dalla Sicilia I quali però, dopo aver liberato il Papa Salvato il Papa Prima di andarsene dalla città La saccheggiarono Compiendo razzie e violenze di ogni genere Gregorio poi morirà poco dopo in esilio Queste lotte tra i papi e gli imperatori Presero il nome di lotta per le investiture Ti ricordi l'investitura era la nomina di un cavaliere In questo caso l'investitura si riferisce Alla nomina del Papa o alla nomina dell'imperatore Gli scontri andarono avanti fino al 1122 E coinvolsero tanti nobili, tanti feudatali Che si divisero in due fazioni Quelli che sostenevano l'imperatore E che presero il nome di Ghibellini Quelli che sostenevano invece il Papa Che si chiamarono Guelfi Addirittura si potevano distinguere I Guelfi e i Ghibellini Dalle merlature dei loro castelli I Ghibellini usavano le merlature Dette a coda di rondine Come questa Mentre chi parteggiava per il Papa Usava delle merlature squadrate Come queste Abbiamo detto che queste lotte andranno avanti Fino al 1122 Anno in cui a Worms fu firmato un concordato Cioè un trattato di pace Con questo accordo L'imperatore rinunciava a nominare i vescovi E lasciava questo potere al Papa Il Papa invece permetteva all'imperatore Di dare ai vescovi i feudi Ma solo ai vescovi delle città tedesche